L'alleanza degli stati arabi a guida saudita ha lanciato il più massiccio attacco della guerra in Yemen assaltando il porto principale del paese Odeida, controllato dagli Uti per costringere il movimento dei ribelli alla resa. Il porto di Odeida è utilizzato per sbarcare aiuti umanitari, ma anche, secondo Abu Dhabi, armi di contrabbando fornite dall'Iran. Dopo quasi tre anni di stallo del conflitto, dunque questa nuova e improvvisa accelerazione sta trasformando la già tragica situazione umanitaria in un'emergenza senza precedenti che coinvolge 8 milioni di persone e che attualmente è forse la peggiore in corso a livello mondiale. L'operazione denominata Golden Victory è saccompiuta con le navi arabe a sostegno delle truppe di terra iemenite. Gli Uti hanno resistito strenuamente, tanto da costringere i sauditi a chiedere l'intervento degli Stati Uniti.